Appena presentato è già contestato il nuovo piano di assunzioni della TUA, l'azienda di trasporto pubblico abruzzese. Alle critiche al bando, volto alla copertura di circa 140 posti, oggi ha voluto rispondere direttamente il presidente della TUA, Gianfranco Giuliante. Riferendosi alle argomentazioni dei sindacati, Giuliante ha parlato di contestazioni paradossali e kafkiane, non solo perché hanno come bersaglio dei nuovi posti di lavoro, ma anche e soprattutto perché il contenuto del bando era già stato concordato e approvato dalle stesse sigle sindacali che oggi lo criticano. Noi stiamo agendo secondo un percorso che avevamo predeterminato con le organizzazioni sindacali. Sto parlando per tabulas con accordi sottoscritti, c'era un primo bando che faceva riferimento a giovani di età fino a 29 anni che dovevano essere professionalizzati nel triennio e c'era un secondo bando che invece doveva riguardare alle stesse condizioni anche gli interinari o coloro i quali già sono professionalizzati per arrivare ad una situazione complessiva di oltre 100 assunzioni così come noi abbiamo dichiarato e siamo disposti ad oggi a fare. Ancora una volta stanno giocando sull'equivoco. Il primo bando che noi abbiamo fatto facendo riferimento a figure che debbano essere professionalizzate nei tre anni evidente non debbono avere la già professionalizzazione per le quali è stato possibile farli lavorare in tua. Però siccome ci hanno lavorato e siccome è giusto che ci sia un riconoscimento per questi noi abbiamo previsto d'accordo con i sindacati un secondo bando che quindi escludesse questo vincolo peraltro previsto per legge per i professionalizzanti che loro adesso ci stanno contestando. Ci spiegassero per quale motivo a giugno erano d'accordo e hanno creato le condizioni per le quali TUA si muovesse secondo la logica dell'accordo ed oggi si stanno riflettendo su quanto avevano già sottoscritto. Vi vedrete? Noi li abbiamo convocati sia informalmente che formalmente sia oggi che domani ma credo che questa levata di scudi immediatamente precedente ad una convocazione che voleva essere appunto di chiarificazione della loro posizione la dice lunga circa il fatto che vogliono alzare il tiro da un punto di vista conflittuale con l'azienda. Grazie. Grazie.